per il relax dei nostri ospiti, dietro l'osteria abbiamo 20 unità abitative, sono delle casette invece di aver fatto camera e quella volta lui decise di fare degli appartamentini, i primi erano di 35-40 metri quadri, gli ultimi sono di 70 metri quadri per l'ospitalità. Molto, aggiungo io, molto, molto esclusivi con tante particolarità che sono anche cose, anche alcune cose esclusive di Fruncia Giulia, ma per dire c'è anche la piscina, veramente il relax, si parla di vero il relax, immersi nella natura. Tutto è stato proprio puntato sul fatto della natura, del relax e le ultime due interpretazioni delle casette di ospitalità sono proprio il nido e la libreria che sono dei, diciamo come situazione, sono dei piccoli punti relax per dormire perché sono stati fatti essenziali, costruzione in legno e vetro, immersi però nel bosco, dove ti diamo un pezzo di bosco per rilassarti e per goderti un pochettino la natura, questo è quello che è un po' di più la forza della subida.